Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao cari amici e cari amici, la Eli è tornata forse. Mi vedete non sicuramente al meglio della mia presenza, vedete una ricrescita spaventosa, la faccia sbattuta, riemergo dopo quasi quattro settimane dove la mia mamma purtroppo ha preso un ictus, è stata una cosa inaspettata, non che queste cose arrivino e uno è preparato, ma non sembrava che ci fossero questi problemi, purtroppo è successo, è successo il lunedì di quasi quattro settimane fa, insomma lei mi ha chiamato fortunatamente al telefono dicendo che non si sentiva bene che si era messa a letto, ma non riusciva a sentire più la mano la mano destra, quindi abbiamo chiamato subito l'ambulanza e vabbè, da lì tutto è partito. Fortunatamente non ha avuto problemi né di movimento né a livello neurologico per quello che riguarda la comprensione, la parola, insomma fortunatamente su quelli, a parte i primi giorni, ma ecco questo è normale per chi ha avuto problemi dal punto di vista cerebrale, questo è abbastanza normale, adesso è ritornata a casa, molto stanca, molto affaticata, io sono appena tornata che ho portato da mangiare, ho mangiato con lei e con la zia che è su a fare le compagnie, insomma, e speriamo che insomma pian piano si riprenda. Il tutto è partito da un trombo che è partito dal cuore, è arrivato al cervello e con un... loro non l'hanno chiamato intervento, l'hanno chiamato in un'altra maniera che adesso non mi ricordo perché anch'io mentalmente sono abbastanza sfasata, cercate di capirmi. È stato tolto con un intervento di angiografia, 5 ore di intervento, che al quinto tentativo fortunatamente è riuscito ad aspirare tutto questo grumo di sangue e a lasciare completamente il cervello senza nessuna emorragia in corso. È uscita dall'ospedale e chiaramente dal punto di vista neurologico, come dico, non è tanto... non è al momento ritornata quella che era e dal punto di vista del cuore invece ci abbiamo messo una bella pezza e ci vorrà un po' di tempo, insomma, anche perché il cuore adesso lavora quasi al 40% di quello che poteva lavorare. Ce l'aveva anche prima, noi non lo sapevamo, nonostante i controlli che fa tutti gli anni, il suo medico purtroppo è stato un po' troppo superficiale, perché il venerdì l'avevo portata dal medico perché diceva che non si sentiva bene, che aveva questo peso, lui l'ha auscultata, ha detto che non c'era niente e vabbè, comunque non voglio ritornare su questa cosa perché non ci voglio ritornare, ma sono stati per me momenti molto molto difficili, molto duri, dove ho compreso e portato con molta fatica la situazione di essere da sola, da sola dal punto di vista come figlia. So che in tanti di voi diranno, eh ma guarda che anche quando si hanno i fratelli, quando ci sono queste situazioni, mi sento di dissentire, perché comunque quando ti succede una cosa di questo genere, che può essere un'emoragia, che può essere un ictus, che può essere qualsiasi altro tipo di malattia, che colpisce qualcuno delle persone a cui tu vuoi bene, che colpisce i tuoi genitori, ecco quando era successo per mio papà io avevo mia mamma che filtrava e comunque io dovevo sopportare, sopportare mia mamma, però era lei quella che portava il peso maggiore, mio papà adesso non c'è più, chiaramente portando io e dovendo decidere alcune cose mi sono sentita veramente sola, mi sono sentita veramente sola nonostante la mia famiglia mi sia stata vicino, nonostante i tantissimi amici in presenza e anche virtualmente e di questo vi volevo ringraziare perché davvero tantissimi, tantissimi di voi mi hanno scritto, mi hanno telefonato, chi aveva il mio contatto, mi hanno scritto in forma privata, facendomi sentire la vicinanza, regalandomi un pensiero positivo, se erano persone che comunque non credevano o anche comunque una preghiera e sono state, siete stati veramente il mio sostegno, oltre chiaramente alla mia famiglia e a tutte le persone che mi vogliono bene. Allora ricomincio un attimo da qui, da dove ricomincio? Ricomincio da quello che avevo lasciato, quindi da quello che in questo momento, in questo periodo è stata un po' la mia ancora di salvezza, il mio poter uscire da quel limbo di preoccupazione, di affaticamento sia fisico e soprattutto psicologico che è stato un po' il decorso dell'ospedale e comunque anche il momento dell'operazione e tutte queste cose. Quindi la prima parte sarà un po' di pensieri che voglio condividere con voi, perché prima di tutto sono d'aiuto a me, perché posso sfogarmi anche se l'ho già fatto con 3.000 persone, perché io sono una persona così, quando ho un dolore, quando ho una preoccupazione non me la tengo dentro, non so se è una cosa positiva o una cosa negativa, però io la condivido perché mi sembra che condividendola sia meno pesante per me, forse è anche una condizione del fatto che io sono figlia unica e quindi non posso condividere le mie preoccupazioni, sì con mio marito o con i miei figli, ma non è la stessa cosa, ecco e allora io la dico al mondo intero e il mondo intero me la ascolta insomma. E questo essere da soli mi è pesato, mi è pesato perché quando sono andata al pronto soccorso poi è stata portata subito in sala operatoria, mentre pensavo oddio che cosa è successo, ma adesso qua che cosa faccio, nel frattempo pensavo allora in banca è tutto a posto, sì allora il conto è intestato, se succede qualcosa non devo fare nessuno spostamento, però se viene a casa che magari non riesce a camminare dunque io ho la casa su quattro piani, devo spostare la Lucia nella camera del Pietro, devo prendere uno di quegli aggeggi per salire le scale perché chiaramente lei non può assolutamente fare le scale se no si affatica troppo, insomma c'erano tutti questi pensieri turbinosi, pesanti che oltre al fatto del dolore, della preoccupazione di quel momento lì così pesante perché tu anche se hai 53 anni la tua mamma e la tua mamma o il tuo papà e il tuo papà ti senti impotente e non sai se stai facendo la cosa giusta, sei da sola, sei da sola, non puoi chiamare un fratello o una sorella per darti il cambio, quindi è stato anche tutto prendere due giorni di ferie nel momento cruciale della situazione, ma è andare a lavorare, lasciare completamente la casa abbandonata a se stessa, andare due volte in ospedale, portare il cambio, ritornare su, nel frattempo la situazione è comunque migliorata perché lei ha avuto anche una ripresa fisica e morale, cioè fisica e neurologica abbastanza veloce, ma tu hai tutta la tua vita e nella tua vita e nel casino della tua vita ci sta questa cosa che pesa come un macigno sulla tua testa e che tu non sai dove sbattere la testa. Adesso non dico che sono rilassata, sono veramente stanchissima, non riesco a dormire da giorni, ho questo che è il mio fedele amico ma anche il mio nemico perché le prime 3 o 4 notti non ho dormito, ce l'avevo lì sul comodino tuttora, ce l'ho sul comodino perché l'ospedale poteva chiamare da un momento all'altro, c'è il momento quando tu entri in ospedale e siccome non ti hanno chiamato quindi forse va tutto bene, ma non ne sei sicura, quando entri nell'altro dell'ospedale, nell'atrio dell'ospedale ti senti questo mattone qua sul cuore e dici ma come la troverò oggi? Mi riconoscerà? Perché in tutta questa cosa ci sono anche dei momenti abbastanza esilaranti si dice perché il primo giorno, il primo secondo giorno gli dico mamma io chi sono? Elena Valsecchi, ok fin qua ci siamo, ti ricordi che papà non c'è più? Sì, si ricordava tutte le cose, dico i miei figli come si chiamano? gennaio, febbraio, marzo e io come battuta le ho detto meno male che non ne ho 12, altrimenti avremmo fatto il calendario intero, quindi va bene, poi c'era anche il ridere e lo scherzare così per buttare giù un po' la tensione su queste cose anche adesso quando gliele racconto ma queste cose qui non se le ricorda, si ricorda chi mi ha chiamato, non si ricorda il pezzo di quando è entrata in ospedale e fino a quando non è arrivata poi nella stanza, ecco tutte queste cose sono davvero molto pesanti, quindi entri in ospedale e dici ma come sarà? E quindi per me che sono credente mi sono affidata, proprio affidata, non ho fatto delle richieste, mi sono affidata alla mia preghiera e l'unica preghiera che riuscivo a fare era signore dammi la forza di accettare quello che è la situazione, sembra che al momento ci sia andata bene anche se il recupero sarà molto lungo però avevo voglia di chiacchierare un po' con voi, avevo voglia anche di sfogarmi con voi e avevo voglia di ripartire, non so come saranno i prossimi video, che tempo avrò, se riuscirò a farne ancora, sicuramente riuscirò a farne ancora, speriamo di riuscirne a farne ancora ma volevo ripartire un po' da quello che avevo lasciato e quindi da quello che al momento era la maglia, l'uncinetto, tutte queste cose perché mi hanno aiutato veramente tanto in questo periodo, mi hanno aiutato tanto quando di notte non dormivo, cosa facevo? O lavoravo a maglia o leggevo poco perché non riuscivo a concentrarmi e sulla maglia, su delle cose veramente molto semplici sono riuscita ad andare avanti e così anche un po' a smaltire la tensione. Cosa ho imparato da questa cosa? Si impara sempre qualcosa, anche dalle cose brutte, sia che finiscano male, sia che sembra finiscano bene. Ho imparato che quando si entra in luoghi come l'ospedale, come la terapia semi-intensiva, non dobbiamo mai dimenticarci la delicatezza di un gesto gentile perché la prima volta che vai tu sei quella nuova e quindi non sai che devi metterti il camice, ti devi lavare le mani, però c'è qualcuno che ti dice guardi signora venga e così si fa così e quando tu sei lì da tanti giorni sei quella che con gli occhi perché si hanno ancora le mascherine in ospedale perché purtroppo il covid è ritornato e non solo il covid, con gli occhi puoi dire tanto, con gli occhi puoi sorridere, puoi confortare una persona che in quel momento purtroppo ha ricevuto una notizia brutta e siamo lì tutti insieme, sarà mia o sarà tua, perché non aprono? C'è stata un'urgenza, di chi sarà questa urgenza? La mia mamma o il tuo papà o mio fratello o mio marito? Siamo tutti sulla stessa barca, quindi ricordiamoci un gesto di gentilezza anche se in quel momento lì noi non vogliamo essere gentili, non ce la facciamo perché abbiamo il nostro peso che è un carico enorme sul cuore, sulla testa, sulle spalle, c'è Minou qui dietro, adesso ve la faccio vedere perché lei è una gatta curiosa e nel frattempo mi sposta tutto, vieni Minou, vieni, vieni. Ecco ho imparato che un gesto di gentilezza veramente vale più di mille parole e il chiedere oggi come sta tuo marito, oggi come sta sua moglie, come sta andando, eccola qua, vieni qua, vieni a farti conoscere perché poi nel frattempo c'è stato anche l'inserimento di questa bestioccia che è una gattina molto vivace in confronto al mio Romeo e molto curiosa perché è una donnina, guarda lì, saluta lì, Minou, 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 brava! E quindi c'è stato anche lei e il mio codino che mi hanno aiutato anche a togliere il pensiero. Adesso vai giù però, che sono tutti figli. E nulla, quindi ripartiamo da qui. Ricordatevelo, io l'ho condiviso con voi perché l'ho provato in prima persona purtroppo più di una volta, questa volta mi è andata bene, la volta scorsa un po' meno con mio papà, perché prima o poi succede a noi figli di dover prendere delle decisioni importanti per i nostri genitori, soprattutto a livello di salute e perché può essere che ci capitiamo anche noi in ospedale. Quindi davvero la gentilezza, la gentilezza, un sorriso, una parola di conforto. Fanno sempre piacere e scaldano il cuore in quegli ambienti così asettici che possono essere come le terapie semi-intensive o le terapie intensive, ma siamo tutti fratelli, siamo tutti parenti in quella situazione lì perché abbiamo dentro i nostri cari e chi più chi meno. Sappiamo bene che la situazione è dura per loro e dura anche per noi. Qui chiudo perché non voglio stressarvi oltre, ma mi piaceva fare questo, avevo voglia di raccontarvi queste cose, di averle condivise con voi perché magari c'è qualcuno che sta vivendo una situazione come la mia o ha vissuto una situazione come la mia o viverà una situazione come quella che ho vissuto io, ma proprio perché ricordiamoci sempre che siamo degli uomini, cioè siamo umani e questa umanità noi la dobbiamo far vedere. E soprattutto un'altra cosa che vi voglio dire, un consiglio da figlia unica, accettate tutto l'aiuto che vi danno, tutto l'aiuto che vi danno, qualsiasi cosa. L'amica, non sto a dire i nomi, che ti telefona e ti dice, Eli quello che ti posso aiutare è fai venire la Lucia a mangiare a casa mia mezzogiorno con le ragazze, se ne ha voglia perché chiaramente questo peso anche del dolore della nonna era anche sui miei figli. L'amica che ti dice hai bisogno di una chiacchierata e viene a bere il caffè, ci facciamo un aperitivo. L'amica che ti telefona, che sai che sta sopportando un peso che è molto molto più grosso del tuo, tutto l'aiuto che vi offrono voi accettatelo perché alla persona che ve lo offre fa davvero piacere e a voi che lo ricevete è sempre un regalo gratuito. Adesso veramente la finisco, partiamo dai lavori che avevo lasciato, che avevo detto che avrei iniziato, qualche lavoro l'ho finito, qualche lavoro ancora in corso e qualche lavoro invece è da iniziare con dei nuovi filati perché dopo che la mia ama è uscita dalla terapia intensiva mi sono fatta due regali, due acquisti di lano. Allora, il primo lavoro che ho finito, anzi no, il primo lavoro che ho finito l'ho finito alla fine di quest'estate, vi avevo detto che volevo fare queste fresine di Purl So, esatto, che è un modello gratuito che trovate sul sito dedicato, poi vi lascerò comunque tutte le cose, erano queste fresine che mi piacevano molto, avevano quest'aria vintage ma anche molto carini nei colori e avevano delle tecniche nuove e soprattutto ho letto il pattern in inglese, sono riuscita a farlo quindi vuol dire che se ci sono riuscita io ci riescono veramente veramente tutti. La presina è questa, ne ho fatta solo una, qua ci sono i peli del mio gatto e del mio cane, la presina è questa, mi è piaciuto tantissimo farla, c'è un errore che io non considero un errore, nel senso che nel colore begiolino ho fatto una riga in più, sono 5 righe e nell'altra ce ne sono solo 4, ho imparato benissimo i ferri accorciati, avvolgi e gira perché questo è tutto con i ferri accorciati, avvolgi e gira, lavorare questa presina è stato molto distensivo, è davvero molto semplice ma è divertente, mi sono divertita tantissimo e alla fine questo è il risultato, mi piace, penso di farne altre, magari le farò con la scala giusta di 4 righe per ogni colore ma devo dire che il risultato mi piace molto e sono molto soddisfatta perché ho imparato la tecnica del ferro accorciato avvolgio e gira che io non avevo mai fatto, quindi questo è davvero un packer molto divertente, molto semplice, molto carino e pensavo di farne qualcuna come regalo di Natale, una mia amica mi ha detto che poteva essere carino anche imbottirla ma vi dirò che ho fatto la prova e a parte che vengono delle presine belle grandi e poi tengono bene il calore perché comunque sono doppie e a questo punto quando voi prendete e diventano belle spesse non trovo l'esigenza di dover metterci un'imbottitura ma potrebbe essere carina anche l'idea dell'imbottitura perché rimangono comunque più piatte, più definite e questo è il primo packer finito, non ho ancora caricato nulla su Raverly, adesso pian pianino lo farò, io poi prenderò qua sempre il telefono e il cellulare perché ragazzi questi sono i miei amici nemici soprattutto in questo periodo e questo è uno. Il secondo era il mio quadrato per viva vittoria e volevo farvi appunto un video adesso perché manca poco per la consegna, avrei voluto farne di più ma questo è stato e per fare questo quadrato vi avevo fatto vedere l'altra volta un lavoro all'uncinetto che però alla fine non mi è piaciuto e quindi ho fatto questo quadrato con, vedete, il dritto è così, no è giusto ve l'avevo fatto vedere dritto, eccolo qua, con questa costruzione particolare che avevo visto l'anno scorso, due anni fa, non ricordo più, da Irene Lecchi, anche lei l'aveva fatto per una viva vittoria scorso e è un pattern gratuito, si chiama Ten Stitch Blanket, fatto per una coperta, io una coperta così non la farei perché diventa difficoltoso anche il girale e poi diciamo il cucire con questo bordo ogni volta attorno, cioè l'ho trovato un po', alla fine diventava proprio un po' pesante e mi singarvugliava, però è un progetto molto interessante perché ha proprio questa costruzione in quadrato che io non avevo mai fatto e ho sperimentato e poi perché c'è questa cucitura che viene fatta quando si arriva all'angolo per attaccarsi al bordo che è già stato fatto e l'ho trovato divertente, bello, mi ha fatto anche fare dei ragionamenti perché prima di iniziare l'ho disfatto parecchie volte perché non capivo, poi sono andata a vedere il tutorial che aveva fatto proprio Irene Lecchi su questo pattern e quindi la ringrazio perché alcune cose proprio mi ha sciolto i nodi lei perché non riuscivo a capire e io ho cambiato qualcosina nel, ma qualcosina proprio di una lavorazione piccola nella costruzione perché come veniva descritta qui io non mi trovavo, quindi anche quando il pattern dice di non passare la maglia io comunque passavo la maglia senza lavorarla perché mi dava l'impressione che questo bordo soprattutto negli angoli venisse proprio più preciso, più definito, più lineato, quindi io ho sempre passato la maglia in tutti i cambi della riga ma poi lo vedrete se lo vorrete fare nel pattern, vi metterò nell'info box il link del tutorial di Irene perché è molto ben fatto e vi può aiutare come ha aiutato me e vi metterò poi tutti i link di riferimento, scusate se sono confusa ma sono veramente molto stanca e faccio fatica a coordinare le cose, qui il filato che ho usato era un filato, uno dei primi filati che ho comprato su Aliexpress ed era, lì lo definiva cotone ma secondo me è un acrilico al 100%, ma è un bellissimo acrilico perché rimane veramente molto compatto, la maglia è bella definita e devo dire che per lavori come questi che poi si farà parte di una coperta perché li cuceranno tutti insieme e poi si potrà mettere anche in lavatrice non avranno nessun tipo di problema, mi è piaciuto davvero davvero tanto ed è un buon modo per imparare delle tecniche nuove e questo è il mio quadrato per Viva Vittoria, minuti, sposti e lasci stare le mie cosine, grazie, curiosa gatta curiosa, ah non vi ho detto, si beh l'avevo forse già fatto vedere, lascia stare e non puoi toccare tu, rimettiamo via tutto perché questa vai, mi butta giù tutto, mmm, minù, il cotone invece, ma smettila sciocca, ma il cotone che avevo usato per le presine era il cotone della Drops, il, adesso ve lo faccio vedere, Safran, non mi ricordo neanche più, sono sconclusionata, ma io so che voi mi perdonerete, esatto, sì, ho usato questo cotone, Safran, 100% cotone della Drops che trovo bellissimo, si lavora in una maniera, madonna mia, ci sono i peli da tutte le parti, in una maniera stupenda, molto molto bello, adesso la prossima che vorrei fare, la vorrei fare così, ma ci sono 3000 combinazioni, mi piace davvero tanto ed è un lavoro che ti porta via il pensiero, non hai bisogno più di tanto di concentrarti, impari un nuovo modo di fare i ferri accorciati, o almeno io non li sapevo fare così. Poi, terzo modello che ho finito qua mi sono portato avanti per i regali di Natale. Allora, pattern, pattern molto discusso, dove ci sono state delle polemiche, io mi sono allontanata da queste cose, la Sophie Scarpe di Petite Knit, alcuni dicono che non era il caso di fare un pattern per una cosa così semplice, tante persone l'hanno imitata, diciamo così, o forse lei ha imitato qualcun altro, io ho comprato il pattern, il costo era veramente 3 euro e qualche cosa e sono stata contenta, sono stata contenta perché io comunque non sono capace di creare un pattern e anche se lei l'ha creato ed è un pattern semplice, io ho speso i miei 3 euro e 50, 3 euro e 90, molto molto volentieri, è scritto in italiano, ragazze, cosa volete di più? Allora, per questa sciarpettina molto molto carina che io ho pensato poi di regalare ad una mia amica, ma ne ho già iniziato un'altra perché adesso ho 4-5 amiche a cui vorrei regalarne a Natale, quindi mi sono messa in anticipo a farle, mi piace davvero davvero tantissimo, è semplicissima, proprio semplice, 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 con un i-cord sia a destra che a sinistra, ci sono degli aumenti ogni tot giri, l'ho fatta con il filato flora, mi pare, non mi ricordo più niente, con il filato flora della Drops, devo dire che i filati della Drops mi piacciono sempre di più perché hanno un rapporto qualità-prezzo onesto, mi piace questo colore che è un colore che va bene con tutto, adesso magari ce la mettiamo anche, oggi non fa neanche tanto caldo, poi pensavo magari di creare qualcosina per fermarla, oltre che al solito nodino, un po' così alla france, mi piace, non è voluminosa, quindi sta benissimo sotto un cappotto, una giacchettina, non crea uno spessore intorno al collo, è tutta a legaccio, quindi davvero semplicissima e secondo me è un ottimo pattern, un ottimo modello, anche per chi si avvicina per la prima volta alla lavorazione a maglia, mi piace, sono molto soddisfatta sia della lama che del modello, sono proprio contenta e anche qui non avevo mai fatto l'i-cord su tre maglie, quindi è una cosa nuova che ho imparato e ho imparato anche un tipo di diminuzione, io generalmente diminuivo facendo le due maglie lavorate insieme, qui invece si passa una maglia, si lavora quella dopo e si accavalla, anche questo è un modo nuovo che ho imparato, quindi ho imparato davvero tantissime cose da tutti i modelli che ho fatto e sono molto molto soddisfatta, anche questo è un lavoro che va via liscio davanti alla televisione, se vi ascoltate un video, se ascoltate una serie, se ascoltate della musica, se siete in silenzio e la vostra mente va altrove, come me in questo periodo, sono davvero molto molto contenta, la sciarpina io ho fatto, c'è di due misure, io ho fatto la misura quella più grande, le indicazioni secondo me vanno bene per qualsiasi tipo di filato, nel senso che qui dà un'idea, ma poi se tu la fai con un filato che si lavora con il tre ti verrà di una dimensione, se la lavori con un otto chiaramente ti viene un sciarpone, quindi secondo me va bene anche per far fuori un po' tutti quei piccoli gomitolini, perché la misura quella grande pesa la mia 34 grammi, io ho usato un gomitolo da 50 grammi, questo la sciarpina finita misura 34 grammi e io l'ho lavorata con gli aghi del 4, anche se il filato consiglia un ago del 3, ma la volevo un po' ariosa e sono contenta di come è venuta, vedete anche qui si vede il punto è abbastanza regolare, il filato è un po' pelosetto ma mi piace, mi piace tantissimo. I lavori finiti sono tutti qui, ho in corso ancora il mio gilet che vi avevo fatto vedere, che è quello con il cotone gasato, sono andata avanti un po', perché quest'estate avevo fatto soltanto il bordo, mi manca un centimetro o due per arrivare all'inizio dello scalfo, ma lì alla signorina che c'è sul modello è un po' vicino all'ombelico, io anche perché l'ombelico non devo farlo vedere, anzi è meglio nasconderlo, andrò avanti penso ancora 3 o 4 cm per poi cominciare la divisione per la manichina. Il modello è questo, il modello è questo qua, preso da Anthology 2 di Carrie Bostic Hug, che mi piace tantissimo, vediamo se riesco a farvelo vedere, vabbè si vede proprio poco perché io l'ho stampato dal libro, ci ho fatto, è proprio un gilet molto semplice con un bordo a legaccio e ha questa costruzione sempre a legaccio, vedete è proprio davvero semplice la costruzione di questo, e ha questa costruzione sulla manica che mi piace molto sempre a legaccio, semplicissimo, sto cercando davvero di fare dei lavori molto molto semplici, questo filato mi piace tantissimo perché è di una morbidezza, io ho fatto il campione anche se ultimamente il campione non mi serve più perché quando lo faccio poi dopo ho visto già altre discussioni sia della mia amica Claudia che di Arianna che insomma non mi ricordo più come si chiama l'altra ragazza che diceva che anche lei insomma il campione lo fa ma poi alla fine è sempre diverso perché sulla pesantezza, sulla lunghezza del capo cambia molto e quindi io insomma neanche i maglioni che compro, o le magliette qua mi misura quindi mi accontento anche che il mio maglioncino magari sia non proprio perfettissimo sulla mia misura, quindi vabbè a meno che non sia giganterrimo perché ho fatto due tagli in più ma così non mi è mai successo e quindi questo conto di finirlo per la fine del mese perché sono sicura che lo indosserò molto, lo indosserò molto, sto cercando altri due o tre, ho trovato alcuni modelli che mi piacciono e siccome la menopausa prosegue e quindi anche le scalmane sicuramente quest'inverno metterò tantissimo le magliette ma poi sopra uno smanicato che non mi cacci troppo calore e che faccio la svelta anche a togliere, vi ho detto che mi è piaciuta così tanto la sciarpetta che ne ho iniziata un'altra con un altro filato completamente diverso, molto bello, molto molto bello da lavorare, che è, qui si è aggrovigliato tutto, che è, che è, che è, questo filato di lan du nord, dolly 125, extra fine merino wall irrestringibile, io ho questo colore meraviglioso perché ho un'amica a cui piace questo colore tantissimo e quindi a Natale gli farò la Sophie Scarf con questo, vedete che già con questo filato le dimensioni cambiano un attimino, io lo sto lavorando, qui era consigliato un 3,5,4 ma io ho usato un 5, mi piace davvero tantissimo, il colore è un po' meno aranciato di quello che vedete voi lì in macchina, che colore dice qua? colore 409, è proprio questo bel rosa fucsia, sì, ho anche dei gerani così, color geranio quasi, mi piace tantissimo, questa l'ho iniziata ieri sera, quindi vedete voi che in due sere davanti alla televisione davanti a un video, due o tre sere ve la fate tranquillamente, poi più il filato è grosso più scende bene e quindi stasera questo sarà il mio lavoro, poi, poi sono andata avanti con la mia coperta all'uncinetto ma quella non ve la faccio vedere perché vabbè è sempre la stessa e stiamo quasi arrivati alla fine, ma poi mi sono cuccolata, mi sono cuccolata e ho visto un video delle Lollo Crea dove presentavano il filato Ellen e chiamandomi io Elena, potevo non prenderlo e l'ho preso in questo bellissimo colore, se faccio uno spacchettamento veloce Maria, ok, a parte il profumo che esce dai pacchi di Lollo Crea, ma questo lo sapete, ve l'avevo detto anche all'inizio quando mi avevano regalato tantissimi filati, allora l'ho comprato di questo bellissimo colore che è proprio un rosa, per farci uno scialle rosa, questo è il filato Ellen che è 60% lana merino e strafine, 40% poliammide 100 grammi, 270 metri, ferri 4,4 e mezzo, a parte che profumano un casino, vabbè, bellissimo Ellen, e ci volevo fare lo scialle della mia mitica Valentina Cosciani e la stampa non è proprio venuta benissimo, io ho comprato il libro su Raverly in formato PDF e poi me lo sono stampato, ma i colori della mia stampante erano un po' così però, questo modello l'ho visto fatto, se non ricordo male, Iris, correggimi se sbaglio da Iris, fatto a mano, da Iris, lei l'aveva in un colore grigio o tortora, non ricordo più era un colore molto neutro, molto molto bello e mi era piaciuta tantissimo la lavorazione e da un po' che ce l'ho, che ce l'ho lì stampato e quando ho visto il filato Ellen, mi sono detta ma sai che faccio? Me lo compro no, non ho bisogno di filati, no, c'ho su 5 casse di filati come tutto il resto in questa casa lo so, è la prima cosa che mi ha detto anche il Mauri però, siccome ero un po' giù di morale, io me lo sono comprato ed è questo bellissimo scialle, molto molto grande perché, secondo me, perché meno pausa gli scialli sono un grande dono perché togli, metti e ti scaldi e ti rinfreschi all'istante che si chiama Roser e fa parte del libro che adesso non mi ricordo più perché il libro l'ho salvato nella mia biblioteca è uno dei libri, secondo me, più belli che ha fatto la Valentina Cociani anche se io l'amo, per tutti i modelli mi piacciono sempre tutti i suoi modelli li trovo perfetti, trovo che il pattern sia scritto benissimo se c'è bisogno di qualche delucidazione sia sul gruppo di Valentina Cociani sia chiedendo a lei, non c'è nessun tipo di problema quindi io mi sono sempre trovata benissimo con tutti i suoi modelli e... ah, Muya forse il libro è Muya ci sono davvero dei modelli stupendi che vorrei, vorrei fare e uno di quelli che mi piaceva di più era proprio questo quando poi l'ho visto fatto da Iris ho detto, ok, lo stampiamo e il filato è questo qui quindi prossimamente inizieremo anche questo ma poi... ma poi... ho comprato anche un altro filato King, perché lo volevo provare? Non so ancora perché cosa ma ve lo faccio vedere visto che è tutto un po' uno spacchettamento, una chiacchiera così magari anche molto caotica mamma mia, è proprio... è proprio bellissimo molto molto fine questo è proprio molto fine quindi secondo me va anche messo con qualcos'altro l'avevo visto perché aveva fatto la presentazione di questo filato guardate che bei colori su di me sta benissimo soprattutto con questa crescita nera adesso andrò dal parrucchiere, eh perché ho un attimo più di tempo, sono un po' più tranquilla quindi andrò anche dal parrucchiere ma... tant'è che insomma la vita normale è questa, ragazzi patta di problemi, fate di cose che non si riescono a fare e... non siamo mica tutte influencer io... questo penso e poi mi hanno omaggiato di questo bellissimo filato fuffi che tra l'altro sta benissimo con quel colore lì e adesso vedrò se comprarne dell'altro cosa fare non ci pensano intanto queste cose scaldano il cuore loro sono sempre davvero molto molto gentili guardate che bello e insieme a questo come ci sta bene sono proprio molto molto belli grazie Lollo Crea perché mi avete fatto un regalo in un momento davvero molto 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 pesante mi è arrivato proprio uno o due giorni dopo che era successa tutta la cosa della mamma e quindi questi sono stati miei acquisti e questo il regalino delle Lollo Crea e poi... e poi... e poi... ultimo... ma non meno bello quello che ho comprato dalla Matassa Pazza la Matassa Pazza è un negozio online di Cecilia che è una ragazza splendida gentile ehm... disponibile allora... il tutto era partito perché io ho visto questo kit meraviglioso per fare il calzino della mia fantastica amica Knitting Cake che è la Giuseppina la Giussi Flamini eh... io l'ho stampato in bianco e nero perché... perché mi sono dimenticata di stamparlo a colori però questo è il calzino io amo i suoi lavori e i suoi modelli perché c'è uno studio geometrico architettonico di pensiero che mi piace tantissimo e avendo io una formazione artistica apprezzo moltissimo chi prende eh... spunto dalle sculture e dall'architettura per poter creare lei è... vabbè lei è un architetto è bravissima e questo calzino lo voglio fare lo voglio fare con un kit uno dei tanti messi e pensati da Cecilia e la Matassa Pazza ed è questo uno, uno, due aspettate che lo metto qua e uno, tre non so se per me, se per Pietro quest'anno è l'anno dei calzini l'ho detto anche 50 anni fa ma... chi se ne frega prima o poi ce la faremo ma... quando ho visto che Cecilia vendeva la Holstgarn che è una lana che mi è sempre stata qua un filato che mi è sempre stato qua ma che non trovavo... cioè qualche anno fa l'avevo scoperto poi non ci ho più fatto caso l'avevo visto nel modello Ravello di Isabel Kramer che mi piace tantissimo ed è uno dei primi che ho acquistato e c'era una maglia ve lo metterò nel link proprio fatta con dei colori molto belli e con questo filato e mi è sempre rimasto qua sul gozzo e allora mi sono detto sai che c'è? ve lo regalo e quindi mi sono fatta fare le fotografie ho chiesto a lei la combinazione migliore lei è stata gentilissima bravissima mi ha soccorso mi ha aiutato e la combinazione alla fine che ne è uscita è questa facciamola così una una due e una tre uno due e questo bellissimo color acquamarina e quindi anche il Ravello sarà uno dei prossimi modelli che inizierò poi magari la prossima volta che ci vediamo su questo canale con la maglia che è il caree avrò cominciato avrò cominciato altro ma fa niente la creatività è proprio questo cambiare anche i progetti in corso d'opera l'importante è riuscire sempre a trovare beneficio da quello che si fa e io in questo momento vi devo dire che mi ha proprio un po' salvato perché mi ha aiutato tantissimo ebbene io ho finito questo mio video che è stato un po' anche uno sproloquio ma così forse è servito soltanto a me mi sono regalata prima che succedesse il tutto questo braccialetto con i centimetri mi piace tantissimo perché lo volevo acquistare già da tanto poi l'ho trovato su un sito polacco non ricordo da dove arrivi comunque poi ve lo faccio vi metto anche questo il link perché arrivavo da un momento molto molto pesante dopo la festa dell'oratorio e dopo aver cucinato per quattro giorni ma con tutta l'organizzazione e l'ho comprato sia perché mi piaceva ma perché mi sono detta Elena devi darti una misura devi capire cosa è la misura giusta di quello che puoi dare perché io mi sono accorta di aver esagerato di aver esagerato non perché mi abbiano chiesto troppo ma perché per me era troppo e quindi poi è arrivata anche la batosta della mamma il diavolo fa sempre le pentoli non i coperchi e chissà che forse sia anche stato un po' un monito per capire che bisogna misurarsi con se stessi con la propria capacità con le proprie forze perché poi non è che ci si può mettere due settimane a riprendersi cosa che io non ho potuto fare perché poi mi è successo tutto l'ambaradan e quindi ecco anche il mio rientrare nel mondo di youtube sempre che lo possa fare sempre che tutto vada bene perché qui si ragiona giorno per giorno ora per ora sarà sicuramente più dilatato e adesso sento l'esigenza di fare dei video su quello che mi fa star bene non che prima non li facessi però mi piaceva anche prima che ne so farvi vedere gli acquisti queste cose ecco adesso sto ridimensionando un po' tutta questa cosa e mi piacerebbe dare dei contenuti leggermente diversi io ho sempre fatto le mie chiacchiere i miei pensieri la condivisione di tutto quello che è la mia vita di quello che è il bene il male il mio credo e tutte queste cose penso di averlo sempre fatto perché io sono così e quello che condivido è la mia persona ecco è suonato il telefono quindi mi prende sempre un infarto ma niente era solo una richiesta normale e le palpitazioni mi ritornano comunque questo è il mio vivere in questi giorni quindi vi dicevo ho voglia di cose tranquille voglia di pioggia voglia di foglie che cadono voglia di essere avvolta nella mia copertina voglia di stare in poltrona voglia di film romantici dolci o voglia di una cioccolata calda voglia di tutte queste cose di crearmi questa comfort zone che mi permetta di vivere magari qualche momento di tranquillità ma anche sognando cioè creandomi un mondo che possa essere così una comfort zone anche soltanto per qualche oretta per poter poi essere nel mondo nella maniera migliore insomma non so se mi sono spiegata comunque ho voglia di queste cose che mi facciano che mi facciano star bene quindi quello che mi fa star bene in questo momento sono appunto il lavorare il ricamare anche lì poi ero andata a fili senza tempo non vi ho fatto vedere niente ma vi farò vedere i miei acquisti il provare a cucire qualcosina o imballo qualche progettino tutte queste cose che mi aiutano proprio a liberare a liberare la mente skin care tutte queste cose le ho fatte fino a tre settimane fa poi le ho abbandonate perché avevo altro per la testa se non pulirmi la faccia normalmente con due o tre cosine e mettermi sbattermi su una crema e andare al lavoro in ospedale e quant'altro quindi queste cose al momento non le ho più fatte ho buttato via un casino di cose finite perché non avevo tempo per fare il video non potevo riempire la casa di barattoli e di confezioni quindi pian pianino ritorneremo magari con anche queste cose sicuramente però ecco adesso mi devo proprio riprendere mi devo riprendere io bene io vi saluto vi do appuntamento sicuramente a un prossimo video che non so come sarà e quale sarà e quando sarà però ci tenevo a ringraziarvi perché nonostante la mia assenza comunque il canale è cresciuto ci sono stati tanti iscritti ci sono state davvero tante persone che mi sono state vicine e quindi vi abbraccio tutti con un enorme un enorme abbraccio un enorme tantissimo affetto e sicuramente ci vediamo adesso pian pianino ricomincerò anche a guardare i video ma davvero non ho proprio avuto tempo non sono neanche riuscita a rispondere a tutti i commenti che mi avete lasciato ho messo sotto il cuoricino per farvi capire che l'avevo che l'avevo visto ma davvero non non riuscivo penso che mi possiate mi possiate capire io vi abbraccio vi saluto vi auguro una buona domenica pomeriggio una buona domenica sera e ci vediamo sicuramente prestissimo grazie ciao